Voglia di riscatto in casa Palermo dopo le deludenti sconfitte contro Torino e Roma. Gli uomini di De Zerbi hanno l'occasione di dare una svolta al proprio campionato, affrontando al Barbera Ludinese rivitalizzato dalla cura del Neri. In palio, punti pesanti in chiave salvezza, visto che con un'eventuale vittoria, i rosa-nero potrebbero portarsi a un punto di distanza proprio dai bianconeri e abbandonare la zona retrocessione ai danni del Pescara. Infermeria piena, in casa Palermo, con De Zerbi che dovrà fare a meno dei difensori González e Raikovic e degli attaccanti Bentivegna tra Eikovic e Balog, mentre dovrebbe tornare a disposizione lo svedese Ilyemark. Giocherà dal primo minuto Diamanti, nonostante Zamparini abbia richiesto un suo utilizzo centellinato per migliorarne le prestazioni. Patron rossa-nero che ha anche iniziato a rumoreggiare dopo le ultime due pesanti sconfitte, ma il tecnico De Zerbi in conferenza stampa si è mostrato tranquillo e sereno, nonostante i primi scricchioli della propria panchina. Ognuno di noi allenatori ha delle proprie idee ed è convinto di portarle avanti, ha dichiarato De Zerbi. Cerco di guardare che tipo di rosa ho a disposizione, ma poiché non mi permette ancora di giocare basso, ho optato per altre situazioni. Star qui solo per lo stipendio non mi va, vorrei dare soddisfazione ai tifosi di una piazza così importante. Quello fatto fino a oggi non è tutto da buttare, abbiamo subito 8 gol ma abbiamo perso contro le migliori del campionato, portando a casa punti preziosi contro delle dirette concorrenti. La squadra mi segue e non ho troppe preoccupazioni, conclude Mr. De Zerbi. Il Palermo deve quindi per forza sfatare il tabù Renzo Barbera, visto che quest'anno in casa non è riuscito mai a collezionare nemmeno un punto, ottenendo le proprie fortune solo lontano dalla Sicilia. Appuntamento a stasera dunque per Palermo di Nese. In palio ci sono punti salvezza e, forse, il futuro di Mr. De Zerbi.